Quindi come in scheda numero uno noi siamo stati molto attenti all'attacco e difesa di testa solo con schivazioni quindi oggi proveremo a fare anche bloc del testa. Quindi cosa dobbiamo fare? Guardate, schivazioni, schivazioni, difesa, difesa. Per difendere la nostra testa dobbiamo portare il gomito dentro e alzare un po' su poi per difendere da parte a destra il gomito un po' dentro e su e guardate come va Io chiudo testa di qua, chiudo testa di qua, attenzione, uno, due, difesa, difesa, va bene, uno, due, difesa, difesa, avete capito? Ancora una volta, uno, due, difesa, difesa, quindi noi prima dobbiamo schivarsi e poi difendere, difendere, avete capito?